Ehi mamma, bebia be ye ye. Andrà tutto bene perché io vedo un mondo unito, un mondo che crede in se stesso e che siamo in tutte le sue accezioni. Andrà tutto bene perché vedo solidarietà e come mi ha insegnato la mia esperienza, la solidarietà è l'unica arma che può aiutarci a non soccombere a questo grande nemico invisibile. Quindi restiamo uniti e restiamo a casa che andrà tutto bene. Hi mamma, everything is gonna be ok. In questo momento di difficoltà i paesi nel mondo si stanno aiutando l'uno con l'altro e si sta creando un clima di solidarietà e pace. See you soon, love you! Sdrava mamma, ben subito credo. L'emergenza sanitaria mi ha costretto a lasciarvi prima del previsto ed è stato terribile, ma in questi mesi insieme nei momenti difficili mi ha insegnato a tirare fuori il meglio anche dalle situazioni peggiori. È quello che farò anche stavolta. Non siamo lontani perché siete dentro il mio cuore, la Serbia è nel mio cuore e appena sarà possibile tornerò per riappreciarvi tutti. Buon invas! Hello, Ibu, akamba, ipa, ita, ja. Andrà tutto bene perché nella vita ci sono altre passi ma che non ce la faremo. In questi giorni sicuramente mi farò delle bellissime risate, soprattutto le esperienze che ho passato seppur in un lasso di tempo minore dalle mie aspettative e sicuramente approfitto di un valore molto importante che mi ha insegnato appunto la mia famiglia ospitante che è un valore che anch'io condivido molto e della famiglia che in questa quarantena non può che farvi bene. Asli e maommi, cos'è inshallah amici con le bes? Perché l'unione fa la forza e io vi sono vicina nonostante alla distanza fisica. Bisù! Mama, nì hao, bui haudanzin, dò hui haude. Ciao mamma, andrà tutto bene. Io sono Luca, sono stato in Cina e ho scelto questa frase perché penso che in questo momento la cosa migliore sia imparare a ripartire e a riorganizzarsi da situazioni come queste. sono stato in Cina e ho scelto questa frase. Ciao mamma, tutto andrà bene, perché nel mondo c'è una grande unità e l'unità vince sempre. Ciao mamma, andrà tutto bene perché come durante un anno all'estero sei obbligato a trovare delle soluzioni alle tue difficoltà anche per questo coronavirus prima o poi si troveranno delle soluzioni. Ciao mamma, andrà tutto bene, non arrenderti. Ciao mamma, andrà tutto bene, ne sono certo, anche perché ora, grazie a Intercultura ho un posto lontano 3000 km da dove sono nato che posso chiamare casa e nel quale non vedo l'ora di tornare quando tutto questo sarà finito. Grazie. 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 Grazie.